Sono 152 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo, sono emersi dall'analisi di 2.517 tamponi. È risultato positivo dunque il 6,04% dei campioni. Si registrano 6 decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.291. Nonostante una riduzione degli attualmente positivi, sono in aumento i ricoveri che passano dai 509 di ieri ai 516 di oggi. Dei nuovi positivi il più giovane è un anno e il più anziano 89. Quelli con meno di 19 anni sono 19. 3 in provincia dell'Aquila, 7 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. I 6 decessi recenti, due dei quali avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL, riguardano persone di età compresa tra i 69 e gli 88 anni. 1 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 243 in meno e scendono a quota 11.137. 478 pazienti, più 7 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 38, numero invariato, con un nuovo ricovero, sono in terapia intensiva. Mentre gli altri 10.621, meno 250, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti sono 389, in totale 25.597. La località con più nuovi casi è Pescara, 23. Dei 38.025 casi abruzzesi, 11.526 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 27 rispetto a ieri, 8.224 in provincia di Chieti, più 28. 7.692 in provincia di Pescara, più 57, 10.104 in provincia di Teramo, più 43 e 318 fuori regione, più 2. Mentre per 161 sono in corso verifiche sulla provenienza.